Prima di immergerti nel video, ricordati di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Ciao ragazzi, eccoci qui come promesso, secondo video sul secondo PG che è stato modificato da Kabam in questo nuovo aggiornamento di novembre, ovvero Colosso. Per chi ha visto il video su Vecchio Logan, diciamo che è stata una mezza delusione, ovvero il PG non ha rispettato almeno le mie aspettative, quindi confidiamo in Colosso e devo dirvi che, per quello che ho potuto provare, su Colosso ci siamo decisamente decisamente di più. Allora, il mio è rango 4 singolo, entrambi i PG li ho portati a rango 4 con i rank up, quelli 2015-2016 di variante, quindi l'ho fatto anche per scopo appunto di test per il canale, perché comunque ero speranzoso che sarebbero stati dei buoni PG e quei rank up non avevano grossi altri target, quindi comunque non mi pento di averli rangati. Purtroppo il mio Colosso è singolo, quindi l'abilità chiave l'andremo a vedere poi sul 4 stelle. Iniziamo a guardarci la scheda. Passivo. A Colosso si basa tutto sull'accumulo delle armature e poi sul fare dei grandi danni. La cosa molto importante è che hanno aggiornato le immunità, e ovvero ora Colosso non è più immune solo a sangue, ma è immune a sangue e incenerimento, ondata di freddo e morto ghiacciato, quindi è immune ad Iceman e a Vision Arculus. Inoltre, se sta affrontando un campione tecnico, è anche immune a squarcio armatura, armatura in frantumi, quindi molto interessante. Sarà abbastanza ostico in difesa se appunto utilizzate i tecnici non li potete fare squarcio armatura, quindi una cosa da ricordare. All'inizio dello scontro Colosso ottiene un numero di buff armatura della durata indefinita pari a 2 più il numero di campioni X-Men nel team, quindi si parte con 2 buff armatura più 1 in più per ogni X-Men nel team. Quindi, buff armatura, numero massimo 20. Allora, in mancanza di diverse indicazioni, buff armatura forniscono un tot al rating armatura, ok. Inoltre, per ogni buff armatura, Colosso ottiene tot al rating danno critico. Questo è molto importante, poiché più armature avete, più i vostri critici faranno male, e quindi questa è una delle grandi fonti di danno di Colosso. Quando Sferra subisce un attacco, se la sua precisione di abilità scende sotto il 100, ottiene il 100% di potere per l'attacco. Quindi, quando riducete l'abilità, la precisione di abilità di Colosso, gli fate in sostanza guadagnare potere. Anche questa è una cosa interessante. Con i colpi critici avversari, il danno viene limitato a 150% del rating attacco avversario, quindi diciamo che riduce il danno che prende dai critici. Ogni volta che viene raggiunto questo limite di danno, la durata del buff armatura viene rinnovata, quindi quando gli fate un critico che supera questo cap, rifresciate le sue armature. Inoltre, ha una probabilità per il 50% di ottenere un buff armatura extra, ogni volta che appunto viene raggiunto il limite di danno. Quindi è veramente un bel car armato anche da tirare giù. Quando fate i perri, i blocchi tempestivi, avete la probabilità del 100% di ottenere un buff armatura, quindi questo è il principale modo di ottenere buff armatura quando usate Colosso in attacco, ovvero fare i perri. Se si entra in contatto con un attacco base, quindi in questo caso, si ha la probabilità per il 100% di provocare uno stordimento. Quindi produce uno stordimento quando fa perri, a prescindere dal fatto che voi abbiate o meno il dominio. Questo è quello che ho inteso io. Se Colosso ha il dominio parata invece, appunto, questo stordimento viene disattivato perché appunto avete già il dominio parata che stordisce, ma in compenso la sua parata infligge un tot dei danni. Quindi qual è il punto? Se avete parata, e penso che l'abbiate tutti, non fate due stordimenti con i perri, ma fate il solito stordimento dovuto al dominio parata. E parando, facendo quindi attivando perri, fate dei danni, ributtate indietro dei danni all'avversario. Io ho anche questa una cosa molto interessante perché lo fate semplicemente parando. Con attacchi speciali e attacchi pesanti, incrementa il rating attacco in base al rating armatura, quindi anche qui, più avete armature più fate male. Attacco pesante, questa è una delle principali fonti di danno di Colosso. Insomma, il gameplay si baserà molto sugli attacchi pesanti, che è positivo perché è molto semplice, ma è negativo per il fatto che i PG che si basano molto sugli attacchi pesanti, come Hyperion, eccetera, eccetera, sono, diciamo, limitati molto spesso dal riuscire a stordire l'avversario. Però vabbè, poco male. Se l'avversario è in corso di basso stordimento, quindi se fate un attacco pesante dopo aver fatto un perri, l'attacco pesante ha probabilità per il 100% di purificare lo stordimento e prendersi una furia. Quindi voi fate perri, attacco pesante, lo state colpendo, lo stordimento viene eliminato e vi prendete una furia passiva che incrementa l'attacco di Colosso in base al rating armatura. Quindi armature più pesanti uguale grande danno. Attacco speciale 1 ottiene un buff armatura più e ha una percentuale del 5% per ogni armatura di stordire. Quindi stordisce se avete armatura alta, quasi sicuramente. Attacco speciale 2, che insieme al pesante è quello da fare per il maggior danno, non è bloccabile, quindi già di base evadete gli autoblocchi, molto interessante. Quando sferra questo attacco e per ogni buff armatura più ha una probabilità del 50% di ottenere un altro, quindi in sostanza raddoppiate i vostri buff armatura facendo la speciale 2. Questi buff non contano per il limite massimo di stanze, quindi potete superare, mi pare fosse 20, andiamo a vedere insieme, massimo 20, ok. Quindi con la speciale 2 potete superare questo limite massimo di 20 e accumulare ulteriori buff armatura. Più ne avete, più danno fate e anche più siete resistenti. L'attacco speciale 3, probabilità per il 100% di provocare affaticamento, quindi riducendo il rating critico dell'avversario. Inoltre Colosso attiva acciaio organico incrementando la quantità di danni ridotti da armatura e resistenza per il buff armatura. Inoltre quando è attivo acciaio organico Colosso diventa inarrestabile mentre in posizione di blocco che gli consente di ignorare gli attacchi. Mi sembra che la speciale 3 non ne valga troppo la pena sinceramente. La rotazione ottimale che ho trovato per usare Colosso è quella di accumulare più strati di armatura, più armature possibili, fare Perry, Pesante e speciale 2. Questa è la rotazione. Quindi come vedremo nel testing il danno è un po' falsato perché vedrete dei grandi numeri ma faremo pochi colpi. Quindi a differenza di PG normale dove voi usate molto le combo con Colosso è un po' più lento il modo di combattere perché è parate, pesante, arrivate la 2, fate la 2, parate, pesante, sono quasi sempre attacchi pesanti. Quindi dei grandi numeri però il tempo in cui tireremo giù il nostro soldato vedrete che comunque sarà da considerare. Andiamo quindi insieme a provarlo. Vediamo subito. L'immunità, raga, sono veramente tanta roba perché anche essere immuni a incenerimento, a ondata di freddo e... E cosa ho fatto? Ho messo Logan. Torniamo indietro. A essere immuni appunto a incenerimento e a Iceman eccetera eccetera non è affatto male. Vediamo se possiamo mettere qualche sinergia interessante. Allora con Wolverine Colosso ottiene un buff furia all'inizio dello scontro. Direi che non ci fa schifo, ce l'abbiamo anche con Old Man Logan. Va bene. Questa con Fenomeno e Inaristabile Colosso è molto interessante perché i buff armatura più confliscono anche uno in più a rating attacco. Quindi questo fa sì che le nostre armature ci diano ancora più danno. Rating armatura, rating armatura, critico. Ma direi che ci mettiamo un buon critico come al solito e siamo pronti per andare. Attaccano alla solita tempesta. Ok. Vediamo un po' come si comporta il nostro Colosso contro il solito soldatino. Colosso, via. Partiamo subito con i nostri perdi e le nostre pesanti. Anche qui ricordiamoci che abbiamo un vantaggio classe. Oh, come vedete già abbiamo fatto una bella speciale che ha fatto 17.000 di danno. Un piccolo trucco con lo stordimento del Perry. Avete la possibilità e il tempo di fare anche un attacco medio prima di fare il pesante. Quindi avete la possibilità di fare un colpo in più, come vedete, medio, pesante. Questo diciamo che è il modo migliore che ho trovato per sfruttare la rotazione di Colosso. Non l'ho fatto, va bene. Abbiamo la nostra 2 pronta. Pam, 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 pam. 10, 20. Ok, raga. Non so se avete visto, ma 20, 30, 40, più di 40.000 di speciale 2. Se consideriamo che è un 5 stelle rango 4 e non ha l'abilità chiave, che mi sono dimenticato di farvi vedere effettivamente. Dopo lo andiamo a vedere insieme, ma in sostanza l'abilità chiave vi consente di accumulare molte più armature. Quindi questo cosa vuol dire? Che visto che il danno di Colosso è basato anche molto su quante armature avete, per fare più danno possibile sarebbe carino avere anche l'abilità chiave. Però come vedete siamo a 42 colpi, soldato è quasi al 50%. Mi sembra che il danno sia decisamente interessante. Se poi ci mettete anche insieme al fatto che è molto 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 corazzato, quindi vi potete permettere anche di prendere qualche colpo. Adesso magari vi faccio anche una prova a prendere qualche schiaffo per vedere quanto male ci fa. Abbiamo un'altra pesante. Ora abbiamo la nostra speciale 2 quasi pronta. Siamo fatti colpire. Come vedete il danno non è stato importante. Stordiamo, medio. Facciamo una speciale 3 e vediamo come funziona la speciale 3. Il danno non mi è sembrato incredibile. 11.000 Come vedete, secondo me, la speciale 3... Adesso siamo inarrestabili. Facciamoci picchiare un po'. Eh, come vedete siamo belli belli corazzati, eh. Guardate. Ci ha fatto veramente pochissimo danno. Il che è molto molto interessante. 5-10. Eh, comunque se critica la speciale 2 fa davvero male. Le nostre pesanti, se criticano, fanno davvero male. Diciamo che la sensazione è decisamente di un PG migliore rispetto a vecchio Logan. Uniamo il danno, uniamo la grossa resistenza e uniamo le immunità. Mi sembra che ci siamo decisamente di più. Anche con Colosso non mi sento di gridare al miracolo, ma decisamente, guardate questi numeri, decisamente per un rango 4 e per un PG che prima veramente non faceva assolutamente nulla, il miglioramento qui c'è stato e non di poco. Altra cosa molto importante che mi sento di dirvi è che, essendo un immune a sangue che picchia decisamente in maniera importante, avendo anche il vantaggio classe contro il talento, questo Colosso risulterà per molti, che non l'hanno ancora fatto, essere un ottimo counter, un'ottima soluzione per superare il Crossbones di Yatt 6.1. Poiché avete bisogno per quel boss di un PG immune a sangue che faccia dei buoni danni e mi sento di dire che Colosso potrebbe essere veramente veramente un'ottima opzione. Io l'ho già finito al 100%, 6.1, magari ci farò un test per vedere effettivamente quanto Colosso possa essere utile in quello sconto. Ok, quasi finita. Vediamo un attimo alla fine quanto sarà. Vedete la lentezza, questa è una cosa che un pochino mi fa storicere il naso. Il gameplay di Colosso è molto molto lento, è molto semplice, un po' ripetitivo e si basa molto su questa cosa di Perry pesante, arrivare alla speciale 2, Perry colpo speciale 2. Comunque abbiamo tirato giù soldato in 128 colpi. Se considerate che è singolo, il numero dei colpi è decisamente inferiore di quello di Logan e considerato appunto che abbiamo fatto questa tecnica di pesante, speciale, eccetera, eccetera, mi ritengo abbastanza soddisfatto. Andiamolo a provare nello stesso path dove abbiamo provato Logan, ovvero atto 5.4, il capitolo con rischio biologico. Cerchiamo sempre di non morire da quel maledetto War Machine che è il primo scontro, ma è un altro modo di testare la grande resistenza e le armature di Colosso. Vediamo subito come si comporta il ragazzo. Qua abbiamo purtroppo lo svantaggio classe, ma vabbè, vediamo un attimo se riusciamo a tirare giù questo War Machine. Allora, vi ricordo che Logan lo aveva tirato giù in una trentina di colpi, 33 se non ho ricordo male. Adesso ci sparerà la tua specie, va bene, come vedete ci ha fatto molto meno male che con Logan. Un altro pesante. Abbiamo quasi pronta la nostra speciale 2. Ok, come vedete è veramente bello cararmatoso. Spariamo la nostra 2. Eh, ha criticato solo per i primi colpi. Siamo però, o credono, sui 20 colpi massimo. Vediamo se non riusciamo a non fargli fare. Ce l'abbiamo fatto. Scarica subito questo maledetto. Dovrebbe essere andato. Ok, un bel 10k di finisher. Vediamo, colpi. 28. Eh, se considerate che abbiamo fatto 3-4 pesanti e una speciale, non mi sembra affatto male. Andiamo a vedere su questa medusa, dove non abbiamo lo svantaggio classe, come si comporta il ragazzo. Stiamo attenti all'autoblocco, ma tanto qui non farà pervi, quindi ce ne frega relativamente. Oh! Vedere un bel 11k di attacco pesante è sempre soddisfacente, raga, sempre soddisfacente. Facciamo un colpo solo. Vediamo, 4. Comunque un rango 4 che fa 15.000 di pesante. Purtroppo le combo normali non sono così importanti. Eh, come vedete questa medusa è andata molto velocemente. L'abbiamo tirata giù in 20 colpi. Ottimo, ottimo. Ce ne stiamo fregando del nodo. Facciamoci anche quest'ultimo Iron Man, che ha la rigenerazione. Vediamo un attimino come ci comportiamo. Però devo dire che in generale le sensazioni sono decisamente positive. Avere un bel counter per quel crossbones non è affatto male. Il PG picchia forte, ha delle buone immunità, è molto tosto a livello di resistenza. Bisognerà vedere se sarà anche fastidioso da affrontare in difesa. Penso di no, perché comunque la modalità per prendere le armature dipende dai perry, quindi è una cosa molto più da attacco che da difesa. Però diciamo che se ha delle armature e poi spara la speciale 2 anche in difesa, e se le raddoppia, potrebbe essere poi, avete visto, 20.000. Potrebbe essere fastidioso da tirare giù. Questo Iron Man è andato in 20.000, come vedete. Bene, direi che abbiamo fatto un test decente. Andiamo per completezza, visto che non ve l'ho fatta vedere prima, e vi chiedo scusa, a vedere la sua abilità chiave sul 4 stelle, così abbiamo il quadro completo di tutto. Allora, il possente colosso. Ogni volta che una delle sue immunità lo protegge da un effetto, quindi ogni volta che voi praticamente prendete un debuff a cui lui è immune, colosso ha una probabilità pari a tot di ottenere un buff armature più. Quindi se affrontate PG come Mornistar, che la picchiate e vi fanno sanguinare, prendete un sacco di armature in più. Colosso ha una probabilità pari a, in questo caso 30%, di convertire un buff armature più in scadenza in uno permanente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se avete dei debuff armature che triggerano, avete una percentuale di trasformarli in permanenti. Questo vi consente, in scontri più lunghi, di avere molte più armature. Quindi, diciamo che è un'abilità interessante, utile, può aumentare il danno alla lunga, ma non è assolutamente fondamentale, secondo me, per il PG. Abbiamo visto che già il mio singolo, R4, i suoi bei danni li faceva eccome. Bene ragazzi, grazie di essere stati con me in questo secondo video. Abbiamo visto entrambi i PG. Ditemi, come per Logan, cosa ne pensate anche di Colosso. Se lo avete, lo avete provato, lo proverete. Sono decisamente più contento del buff di Colosso, perché avere un PG immune che picchia è sempre una cosa buona. Potrebbe aiutare molti giocatori in progressione, a superare crossbones di 6.1 e altri path, magari appunto sangue, bastardza stronzi. Quindi, vi ringrazio. Come al solito, mettete un like se il video vi è piaciuto. Condividete con le vostre alleanze, condividete con chi volete voi. Ci vediamo ai prossimi video. Arriveranno delle novità interessanti prese dal web. Vi ricordo che avete il posto delle donazioni e il link a Twitter che ho messo da poco, se volete fare un giro anche su quella pagina. Grazie veramente infinite. Una buona giornata a tutti. Ciao!